E d'accordo, ti farò la trasformazione del Super Saiyan in terzo livello. Sei pronto? Niente affatto, è solo che voglio mostrarti come funziona il meccanismo di noi Saiyan in modo semplice e chiaro. Guarda bene, da adesso sono un Super Saiyan. Mentre questo... Guardalo bene, questo è il Super Saiyan che ha oltrepassato il limite. Ne si chiama Super Saiyan di secondo livello. E adesso... Super eroe il limite del Super Saiyan di secondo livello! Crema! Crema! Ciao!